Ad aprile 2015 il mio cambiamento. Ho lasciato un lavoro sicuro per la voglia di un riscatto personale, per poter finalmente scegliere chi e che cosa essere. Questa è l'opportunità che ho trovato in alleanza. Così ho iniziato un percorso fatto di costante formazione e affiancamento da parte del mio coach, dove sono cresciuta professionalmente ma soprattutto personalmente, diventando così parte di una grande squadra. Oggi l'emozione più grande, quella di essere il punto di riferimento per le famiglie che vogliono costruirsi un futuro e che vogliono realizzare i propri sogni. Beh, direi molto più che fare l'assicuratore. E tu che cosa aspetti?